Un pitbull con una zampata ha colpito la palpebra dell'occhio della sua proprietaria, una ragazza di 20 anni. Giunta all'ospedale Bolitano Maria Santissima Adolorata di Eboli, la giovane è stata operata d'urgenza dal medico Palmiro Cornetta. Per fortuna l'occhio sinistro è salvo, 10 punti di sutura, ma la ragazza ha rischiato grosso. Infatti la zampa del cane per pochi millimetri non ha toccato l'occhio. Dimesso dall'ospedale è in convalescenza, ma sembra aver già perdonato il suo pitbull per quel gioco domestico, terminato con il ferimento all'occhio sinistro.